La sintesi sembra che il nostro programma è molto vasto e articolato. Io lo chiamo programma amministrativo, lo chiamo col suo nome e cognome. Perché di programma si tratta, non di proposte astratte e spesso irrealizzate. La nostra lista, si chiama Noi ci crediamo, nasce con l'aggregazione di soggetti liberi, da vincoli non democratici, di varie provenienze e appartenenza politica, che riscoprano con entusiasmo i propri diritti civici per cambiare il meglio e il futuro della città. Guidati da un programma chiaro e fattibile, giudicati e sostenuti continuamente dall'Assemblea di Noi ci crediamo. Questa è la vera novità di questa campagna elettorale. Noi saremo sempre giudicati da un'Assemblea permanente, regolarmente costituita e autorevole, perché è costituita da cittadini Santa Croce e Camerina, perché comandano loro. I candidati della vista, noi ci vediamo in questi giorni che state incontrando. Guardatevi bene, negli occhi. Sono soprattutto giovani, ma anche meno giovani. Anzi, Bottuno è anziano, diciamo. Ma decidono di metterci la faccia, nel solo interesse della gente di Santa Croce e Camerina.